Ecco Teidi circondato da due avversari ma come al solito caparbio, Teidi, Teidi, calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore a nostro favore, ha atterrato Teidi in aria, l'arbitro stava a 2-3 metri e non ha potuto fare altro che decretare il calcio di rigore. Parta! Prendezza, Teidi calmo! ehi Malvo Malvo no no metti in banchina Rete! 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 Il nostro capitano Teddy Mata 1 a 0 al nostro favore 1 a 0 al nostro favore Virtus Castelfrentano 1 a 0 al nostro Mata Tutti in banchina su ragazzi Tutti in banchina ragazzi su Tutti seduti dell'arber